Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro non è un privilegio, ma è un diritto. Essere contro il terrorismo islamico significa essere islamofobi. Essere contro le adozioni gay significa essere omofobi. Se mi entri mascherato e armato in casa di notte, se entri in piedi ed esci steso, è un problema tuo. Voler chiudere i campi rom o bloccare l'invasione clandestina significa essere razzisti. No, significa avere buon senso. Flat tax, tassa unica al 15%, pagare meno per pagare tutti. Bisogna premiare chi crea lavoro e ricchezza, premiare chi ha successo, premiare chi dà lavoro. L'unica cosa che potete fare è preparare le valigie e andare a cercarvi un lavoro vero perché la libertà non la ferma nessuno.